il moto mondiale torna in spagna per la quattordicesima gara del mondiale moto 2 le previsioni meteo sono assolutamente rassicuranti e dicono che avremo sole per tutta la durata della ancora pochi istanti inizierà il gran premio di aragon in questi momenti i piloti svuotano la mente perché devono dare il 100 a Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti.